Oggi partiamo dal passo Mendola e più precisamente dal parcheggio degli impianti sistici. Seguendo il sentiero numero 500, ci incamminiamo verso la Cima Roe. Ci aspetta un percorso molto bello tra i boschi della Mendola con passaggi per rifugi, malghe e chiesette alpine. Dopo un dislivello di circa 800 metri su oltre 7 km di percorso, godiamo di un magnifico panorama e restiamo in vetta per goderci un tramonto da favola. Saluti della Cima Roe e buona visione. Saluti della Cima Roe Spesso camminiamo senza una meta. Ci troviamo soli in mezzo al nulla e non sappiamo quale direzione prendere. Il nostro sguardo si perde verso un orizzonte infinito. Non ci accorgiamo che già tutto quello che ci circonda può essere una meta. E così continuiamo a salire sempre più in alto, quasi a toccare il cielo con un dito. A volte è facile, altre è più faticoso. Ma se ci impegniamo la meta è raggiungibile. Ciò che troviamo sarà magnifico e compenserà ogni nostra fatica. Sarà un sogno che si realizza, un traguardo raggiunto, un lavoro compiuto, una battaglia vinta o semplicemente un momento. non importa quello che conta è che ci sei arrivato. A presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.